Gianni Marino, la città si mobilita per il premio Piola, una quattro giorni, calcio, convegni, spettacoli, musica, divertimento, tutto e tanto di più, Comune e Provincia con altri sponsor che si mobilitano per farne un evento. Sì, effettivamente c'è una sinergia tra gli enti pubblici, quindi regione, soprattutto provincia e comune. Ci siamo allertati sotto l'auspicio anche della provincia, l'iniziativa della provincia per rendere questa manifestazione più visibile a livello nazionale e anche internazionale. A me soprattutto piace sottolineare l'impegno e il coinvolgimento dei giovani, cioè le squadre che saranno presenti in questa magnifica serata che è rimbalzi di gioia, leggo testualmente, dove ci sarà il coinvolgimento di tantissimi giovani che sono il vivario della nostra società vercellese e che rappresentano il futuro anche calcistico. Ed è una cosa che penso che Silvio Piola gli sarebbe sempre piaciuto vedere e sottolineare.